Conoscersi, dialogare, creare reciproche opportunità d'incontro. Con questo obiettivo, Union Camere Puglia, in collaborazione con le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, organizzato il Talent Day. Io lavoro in Puglia. Gli studenti della scuola alberghiera incontrano le aziende. A Brindisi l'iniziativa si è tenuta nella sede dell'autorità di sistema del Mar Adriatico Meridionale. L'evento gratuito è stato un'occasione propizia sia per gli studenti che per le aziende di settore, poiché è rappresentato un modo per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il turismo in Puglia e il turismo nel Salento è una realtà consolidata, ma sempre di più i nostri turisti cercano qualità e soprattutto un riscontro tra quelli che sono i nostri prezzi, in costante aumento negli ultimi anni con la qualità dei servizi. Quindi la sfida che oggi lanciamo con gli istituti alberghieri e con le imprese è quello proprio di qualificare la nostra offerta turistica attraverso personale altamente qualificato, attraverso imprese che nella formazione credono e dalla formazione potranno trovare il loro futuro. Ampa Servizi è da tantissimo tempo impegnata sull'orientamento dei ragazzi delle scuole superiori, stiamo sperimentando anche un orientamento per le scuole medie e inferiori perché riteniamo sia necessario l'orientamento ad ogni età. Questo tipo di manifestazione secondo noi è importante più per i ragazzi che per le imprese, in quanto le esperienze che si acquisiscono sul luogo di lavoro diventano importantissime per la loro formazione. Grazie. 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 Grazie.